Sì, è una bella soddisfazione aver preso questa bella macchina con i match points. Dunque, 21 milioni, spiegaci un attimo come hai fatto a totalizzarli. Allora, gran parte li ho totalizzati con i sit and go, quando ancora partivano, ovvero nell'era tra virgolette pre-cash game, giocando sit and go da 100 e 250 euro, 6 max e 15 max. Ho massato nel corso di un anno e mezzo e sono riuscito ad arrivare alla somma necessaria per riuscire a prendere la macchina. E adesso invece con l'entrata del cash com'è il tuo setup? Adesso per quanto riguarda la rake mensile ne faccio molto meno perché ovviamente nei sit and go massando parecchio si faceva più rake rispetto al cash game. Però da una parte preferisco, con questa entrata del cash, mi ha dato altre possibilità di imparare questa nuova disciplina e di affermarmi anche in questa, nella modalità che gioco attualmente, ovvero quella dell'Heads Up Cash, che sto giocando su Sisal con buoni risultati per adesso, quindi sono contento. Prossimo obiettivo pokeristico diciamo per il 2012? L'obiettivo pokeristico è quello di mantenere diciamo il win rate che sto avendo nei tavoli di cash game per tutto il 2012 e sarebbe già questa una bella vittoria per me.